La vera risposta che dobbiamo dare è integrare le forze dell'ordine con il personale dell'esercito. Mi sono reso conto, vedendo con i miei occhi, che la quantità di persone pericolose presenti in questa zona è talmente elevata che anche le pattuglie dei vigili urbani ormai non possono più far nulla. Opposizioni all'attacco dell'ordinanza di divieto di vendita pomeridiana di alcolici nel supermercato di via Zorzetto che rischia di mettere in seria difficoltà i lavoratori alle prese, nella migliore delle ipotesi, con clienti seccati e nella peggiore con sbandati. Ordinanza notificata nel pomeriggio al supermercato dalla direzione. Già ieri hanno fatto sapere che del provvedimento sarà interessato l'ufficio legale. Credo che ci voglia veramente un gesto di responsabilità del vice sindaco, ammettere che le sue politiche in tema di sicurezza hanno fallito e sedersi tutti attorno a un tavolo per trovare una soluzione. E i lavoratori intanto reagiscono, adesso sono problemi nostri. Le toccherà litigare ferocemente, mi auguro non succeda mai niente, perché io non rimango con le mani in mano. E in chiusura un polemico grazie sindaco. È il duro post pubblicato su Facebook da un dipendente del PAM di Piazza Borsa, marito di una cassiera che denuncia come l'ordine di non vendere alcolici a chi va dal supermercato a comprare espressamente quelli, metta a rischio proprio i dipendenti, una problematica di cui sono già stati investiti anche i sindacati.